Poco fa il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento sull'utilizzo degli impianti sportivi a Caltanissetta. Cosa cambia? Beh, sostanzialmente non cambia nulla, se non che questo regolamento, che oramai era vecchio, di 20 anni, passa. In buona sostanza il Consiglio ha fatto un'azione lodevolissima, che non ha fatto altro che aggiornarlo e renderlo attuale rispetto a quelle che sono le situazioni attuali. Quindi, in linea di massima, ha reso più comprensibile, più operativo, uno strumento fondamentale a cui l'ente locale è tenuto, perché non fa altro che ribadire alcune norme di leggi che purtroppo vanno sempre più appesantendo le risorse comunali. E' uno per tutti il problema delle tariffe, che obiettivamente vengono ulteriormente ribadite. E da recente, come voi sapete, la spending review addirittura ha portato anche questi emolumenti ad essere assolti nella totalità dei costi. Fra le altre cose, ha anche aggiunto, e questo è un fatto positivissimo anche dei suggerimenti per l'amministrazione, di cercare di venire incontro a chi pratica lo sport, alle società sportive in modo particolare in questa città, cercando di creare tutta una serie di forme agevolative, che non sono soltanto quelle di un abbattimento, addirittura degli importi, ma anche quelle di cercare di vedere, di concedere anche gratuitamente qualche servizio che ad oggi non viene concesso. L'amministrazione era già su questa lunghezza d'onda, non appena, se è possibile farle, queste cose le farà volentieri.